ben ritrovati di nuovo su review in you oggi vado a recensire brevemente questo prodotto che secondo me può essere utile per chi in questo periodo si avventura a fare delle escursioni delle camminate in montagna ma non solo si tratta di un ghiaccio istantaneo che acquistato su amazon ed ad un prezzo davvero competitivo rispetto anche gli altri ghiacci istantanei in commercio il prezzo è di 1 euro e 99 al momento che l'ho acquistato vi lascio il link in descrizione così potete guardare anche voi il prezzo e eventualmente acquistarlo non mi dilungherò troppo anche perché c'è poco da dire una busta monouso la particolarità di questo ghiaccio è che ovviamente non è così ingombrante quindi potete metterlo nello zaino da trekking senza avere troppo peso e in caso di distorsioni di problemi che ci possono essere magari durante il viaggio è veramente utile ve lo consiglio quindi da mettere dentro lo zaino si va a schiacciare e poi l'effetto ovviamente è immediato non si può però riutilizzare ovviamente qua ovviamente ci sono scritte le varie prescrizioni e devo dire che davvero un prodotto secondo me da avere con sé la scadenza tenendo conto che l'ho acquistato l'anno scorso è del 2025 quindi grande tempo di durata qua ho già aperto una confezione sono andato a tagliare la parte sopra per avere meno spazio all'interno dello zaino vi faccio vedere come si presenta la busta la bustina è davvero piccolina questa è la mia mano quindi per farvi vedere per farvi capire è veramente un prodotto contenuto che vi permette di non avere troppo spazio all'interno appunto di non occupare troppo spazio all'interno del vostro zaino non appesantirlo ma avere comunque un prodotto che è utilissimo in caso di emergenza questo è il contenuto rea cloruro di ammonio e acqua se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela vi do l'appuntamento alla prossima review